Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi vi spiego cos'è che abbiamo fatto stamattina Praticamente stamattina Sono andato Cioè siamo andati Al deposito della roulotte Che nel loro sito, lo trovate sempre nel link in descrizione A preparare dentro qualcosina E quindi ho detto Mettiamo già dentro qualcosina Così almeno siamo già a posto o normalmente su quello Allora, quindi noi abbiamo fatto quello Abbiamo un po' sistemato tutte le cose dentro la roulotte Cioè che stamattina siamo andati alla roulotte Abbiamo sistemato i vestiti Accapatoi Carta igienica Vestiti, pantaloni Mutande E Adesso dice, le mutande E poi abbiamo fatto un po' la cosa lì Però vabbè Non so lì a spiegarvi cosa ho messo le mutande Vabbè Comunque Siamo andati alla roulotte Stamattina a preparare qualcosina ovviamente Comunque ci stiamo proprio avvicinando Perché mancano esattamente due giorni alla partenza Vi faccio vedere un po' i preparativi dell'inizio E voi sicuramente sarete lì tutti emozionati da casa Un campeggio, al lago, in hotel O in un resort A ovviamente guardare questo video E voi parteciperete anche voi con me alla vacanza Vuol dire che anche voi, anche se voi non siete lì dal vivo con me Potete partecipare allo stesso alla vacanza Perché è bello condividere Un'esperienza fatta proprio alla vacanza Con voi perché dico Cavolo Non mese che sono con voi Quindi ho detto Penso di ci perché Giusto farlo per i fanpeggini Che i fanpeggini ovviamente Siete voi, voi iscritti E grazie per aver arrivato al 13 iscritti Se arriviamo al 100 iscritti Faremo uno speciale Dove io praticamente Vado A come si dice Ado Faccio qualcosa che voi mi dite nei commenti Ovviamente Le sono attivate Me lo dite nei commenti qui Al 100 iscritti Farò uno speciale E voi mi direte cosa fare Cioè vi consigliate Io tra uno di voi Sceglierò ovviamente Lo scrivete solo Se sono I commenti sono attivati Perché non è detto Che i commenti sono attivi Eh Lo sempre Comunque ieri qualcuno Ha tentato di scrivere La persona che io conosco Ma purtroppo per privacy Non posso libera Comunque Stavate Siamo andate alla roulotte E abbiamo sistemato qualcosina Negli armadietti Le mensole È un po' tutto quello Normalmente Comunque La roulotte È a posto Se ve lo chiedereste La roulotte È tutta a posto Pronta per partire Ma partiamo Esattamente Dopodomani Quindi C'è da preparare Su Sulle maniche E le maniche Non ce le ho Però faccio finta Perché io ho la carottiera Sotto Non c'ho niente Perché ovviamente Dal caldo che fa Non si respira Non si respira Perché se no Moriamo di caldo Facciamo la sauna E meno male Che è esistito Il primo inventore Del condizionatore Perché se no Raga sarebbe Veramente La fine Moriremo Secchi Accaldati C'era che Vi immaginate Fare nella sauna Ecco La stessa identica cosa Ma nella sauna Ci sono 40 gradi E non ho detto Che vado a fare Adesso la sauna Ma per carità Raga Non vado a fare Nella sauna Comunque Tutto questo È posto Perché bisogna Praticamente Prepararci Qualcosina Perché Per dopo domani È il grande giorno Raga Vi rendi conto Che dopo domani È il grande giorno E sicuramente Mi vedrete Una faccia diversa No Con questa faccia qui Sarò sempre La stessa persona Perché io cambio persona E no Non cambio persona E raga Cosa c'entra Perché cambio persona Sì perché Avrò un'altra faccia Vuol dire La faccia Faccia da contento E qua ovviamente Ho la faccia D'allergia E si può anche notare Raga Vi faccio vedere All'occhio Vi faccio vedere Però non so Se da voi Si vede molto bene Perché la telecamera Che è un po' Un po' In disastrini Io raga Lo sapete Che uso sempre Il telefono La manca Della telecamera Che la chiamo telecamera Ma sarebbe Il telefono La trovate Sempre il link In descrizione E il link In descrizione Trovate Il link Del deposito Il link Poi vi dico Il link del tele Passa E dopo Gli altri link Tranquillamente Dopo ve li dico Allora Ovviamente Abbiamo già messo il gancio La macchina Non so se l'avevo letto Nell'altro video Però Non me lo ricordo Quindi preferisco Di vero Che ovviamente Fa sempre bene Di le cose Che ho già detto Perché non so Se voi Avete visto Il video I piccoli Preparativi Per il mare Ecco Se vi siete persi Il video Lo trovate Sempre il link In descrizione Così normalmente Come da fanpage Potete andare A vederlo Sto dicendo Controllare Invece Ho invertito Le parole Ho sbagliato La parola E ho detto Controllare Se ve lo siete persi Potete normalmente Andare a Vederlo Il video Che secondo me È molto interessante Il video Perché Insomma Da scoprire Su La terra Se il video Si È Eliminato Dal momento All'altro Ma raga È lo spazio Della memoria Adesso Per fortuna Non so Più questo problema Perché prima Ci avevo riprovato Tantissima volta A fare questo video Raga Non è proprio Facilissimo E fare il video Per ogni volta Perché se no Ragazzi Fa mezzogiorno Ho detto Poi è venuto Via papà Ad aiutarmi A darmi giustamente Un'idea Per come vai Questo spazio Della memoria Fa un po' Il maledetto E Spazio D'acquisizione Perché le app Che io So su questo Telefono Ovviamente Occupano un po' Di spazio Perché normalmente Le app Insomma Ce la mette E voi Avete un telefono Se sono attivi I commenti Per il favore Raga Scrivetelo Nei commenti Che È una domandina Direi Molto Molto Semplice Ovviamente Come da fanpage Comunque Quindi Grazie raga Per aver partecipato A questo video Oggi Il titolo Si chiama Cosa abbiamo fatto Stamattina Dove siamo andate Alla roulotte Abbiamo voluto Sistamare Tutti di cose La macchina La macchina è tutta a posto La roulotte Tutta a posto Pronta per partire Ma partiamo dopo domani Quindi raga Che dire Ci vediamo Nel video Di domani Di domani Avrò una faccia Diversa Speriamo Domani mattina Perché io Sto registrando Un video Che Sono Le 11 47 E quasi mezzogiorno Quindi Diciamo che Stamattina Siamo andati Quindi Stamattina Abbiamo fatto un po' Di cose Comunque C'è già il gancio C'è già la spina Tutto a posto Non c'è solo l'acqua Qualcosina Ma lo facciamo lunedì E non sto lì Lunedì A riprendermi tutto Perché Io C'ho la memoria Raga Già bello che Il papà Mi ha fatto questa cosa Se no C'hanno la memoria Nella scheda ST Raga Se no È un macello È un macello Comunque raga Vi saluto Grazie per aver partecipato A questo video Saluto Fatemi insieme Da casa Oppure In ruoto O il capeggio O O in hotel Ovviamente Siete pronti? 3 2 1 Facciamolo insieme Io 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 Forse mancava qualcuno Sì dai Facciamolo Bello insieme Io 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 Ciao raga